Dice delle cose che a me piacciono. Sono proprio contento di incontrarti Regina. Tutti i giorni la vedo e dico guarda signor Alberto mi piacerebbe proprio così, è proprio contata così, grazie. Sei più bella dal vivo. Tanti anni fa ero bella adesso. Sei un po' truccata oggi? No, 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 mai. La mia faccia non ho mai messo niente, non ho mai messo niente, non ho mai messo niente, non ho mai messo niente.